Ho iniziato più o meno tre anni fa, ho sempre scritto un sacco di poesie, un sacco di pensieri, ho sempre cantato, però non avevo mai preso in considerazione l'idea di rappare. Poi vabbè mi sono avvicinata un po' al mondo dell'hip hop eccetera, nonostante ascoltassi già hip hop, rap eccetera. Gli anni passati mi sono avvicinata pian piano comunque a questa cultura ed ho iniziato così a rappare, a scrivere, sono stata seguita inizialmente da diverse persone che mi hanno dato degli ottimi spunti, sono state delle ottime guide, mi hanno dato tanti consigli, è stato tutto molto graduale e molto naturale. Inizialmente appunto scrivevo un sacco e cercavo di migliorare il flow, cercavo di migliorare le tecniche di scrittura eccetera, e poi man mano è diventata un'esigenza soprattutto nei periodi quando sono male. Allora Mistake, questo è un aneddoto abbastanza ridicolo, nel senso che vabbè una serata eravamo tutti sbronzi, ero con delle mie amiche, l'ex ragazzo di questa mia amica fa sai come dovresti chiamarti, tu poi era sbronzo perso, vabbè mi fa Mistake, la ragazza che lo prende, cioè gli sono anche incazzata sul momento. Poi pensandoci il giorno dopo ho iniziato a ragionare, ho detto Mistake, ok Miss, ragazza, signorina, Mistake, errore, ci aggiungo una S, Mistake. Ok, quindi il significato che gli do io è prettamente correlato agli errori che ho fatto io durante la mia vita, durante il periodo adolescenziale, visto che ho fatto impazzire un po' tutti, tra genitori, amici, parenti eccetera, e quindi mi chiamo Mistake per questo motivo. Poi il significato che vogliono attribuire le altre persone a me sinceramente non me ne frega nulla, io so che questo. A bacca danse, clic, clac, boom! Muovi questo culo sopra il clap, clic, clac, bam! Umbriata, 15 anni, nella testa, solo scan, scoppia, socia il bello come il Big Bang! Sta a rappresentare, che ho presentito la baggiale ed è stato da vacca, è il mio personal trainer di fiducia. Sta a rappresentare un periodo che è durato circa due anni di profonda crisi interiore, nel quale ho rivalutato molto la mia vita e tutte le cazzate che si fanno appunto. È stato un percorso molto lungo, si compone di otto tracce. L'intro, nell'intro voglio un attimino rappresentare la situazione com'era e spiegare per l'appunto che dopo questi due anni sono una persona cresciuta molto interiormente e riesco ad affrontare i problemi della vita con uno sguardo diverso, con un'ottica diversa. Poi abbiamo diversi pezzi, ho deciso di cambiare quello che penso sia venuto meglio, quello anche che è piaciuto di più, che è tra l'altro l'ultima traccia, che parla prettamente di come io da un giorno all'altro abbia deciso di dare una svolta alla mia vita senza aggrapparmi continuamente al passato, che per l'appunto ci ricorda che siamo solo qui ora e non ha altro scopo. Cosa è successo? Questa è anche divertente, ero un pomeriggio a letto ovviamente, periodo nero, mia madre mi fa, dai andiamo a tagliare l'edera, cerca comunque di motivarmi, al che andiamo in giardino e iniziamo a fare dei piccoli lavoretti, io inizio a cantare, mi avevo deciso di cambiare, di rimanere calma anche se andavo in questo mare, e ho detto, cazzo, questo uso, questo può essere un buon ritorno. Quel giorno lì penso abbia segnato la svolta definitiva del mio percorso, l'inizio di una nuova vita, se così si può dire. Poi ci sono altri pezzi dove racconto per l'appunto una storia abbastanza travagliata, d'amore, e tra l'altro il pezzo dalla strada, dove parlo appunto di questo amore impossibile, di queste cose, è con Joe Pee, un artista molto valido, c'è il pezzo con vacca, che sta a far capire che comunque le cose nella vita bisogna guadagnarsele, e non bisogna dar per scontato nulla, le cose non cadono dal cielo. Poi c'è un pezzo un attimino più autocelebrativo, che è Click Clack Bam, nel quale parlo un attimino della società che mi circonda, dei giovani d'oggi, di come affrontano la vita, non giudicando, ma riportando le cose dal mio punto di vista e per come le vedo io. Poi c'è Paranoia con Next Cassel, un pezzo molto ben riuscito dal mio punto di vista, perché comunque trattiamo per tematica della paranoia, e lì racconto un attimino come mi relazionavo io nei confronti delle paranoie, eccetera. E poi basta, comunque gli altri pezzi rappresentano per l'appunto questo periodo, come già detto. Io credo alle persone che vogliono iniziare a scrivere, innanzitutto farlo perché se lo sentono dentro, non farlo perché adesso è una moda, farlo perché hanno qualcosa da dire, farlo perché hanno qualcosa dentro da esprimere, non farsi trascinare. Da tutto un altro discorso che c'è dietro, quindi un discorso di visibilità, di marketing, di tutte queste cose qua. Ma comunque posso dirvi di ascoltare un sacco di musica, ma non musica la cazzo, perché la musica non è né bella né brutta, ma si distingue secondo me musica che trasmette e musica che non trasmette. Detto questo, ascoltate un sacco di musica, anche se lo ascoltate in inglese, facendovi le traduzioni, cercando di capire cosa vuole trasmettere l'artista in quel pezzo, se c'è un filo logico, perché la traccia 1 è messa al primo posto, perché la traccia 6 è al sesto posto. Seguire il filo del discorso, questo può aiutarvi un sacco, anche ovviamente con il flow. Uno stile, anche non focalizzarsi su uno stile musicale solo, ma ascoltare un po' di tutto, cercando di acquisire tutto quello che potrebbe farvi migliorare. E anche, ultima cosa che posso consigliarvi, è scrivere almeno un pezzo al giorno, e farvi rivedere da qualcuno che comunque ha già esperienza, e scrive già da tempo, che vi può dire cosa potreste migliorare, cosa potreste cambiare, eccetera. Questo è quello che posso dire. Allora, mi ascolto un po' di tutto, io penso che ci siano dei momenti per ogni genere musicale, perlomeno io me la vivo così. Sono scazzata, sono triste, o la sera prima di andare a dormire, mi ascolto i suoni della natura e la musica classica. Di giorno sono strapompata, mi ascolto linea 77, i corni, slip, not to pro, eccetera, eccetera, eccetera. Ascolto un sacco di dancehall, soprattutto al mattino appena mi sveglio. Non mi focalizzo su un solo genere musicale, non vi dirò mai se me lo chiedete che musica ascolti, io ascolto rap, non ascolto nient'altro. Anche perché rap, hip hop, eccetera, a livello italiano ne ascolto veramente poco, ovvero sono informata su tutte le uscite, eccetera, però non lo ascolto molto perché poi ho notato, cos'era, due anni fa che è uscito Monster di Noiz, io me lo ascoltavo a palla 10 volte al giorno, sempre quelle, sempre quelle, My Love Song, ta 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 ta. Cosa succede? Che poi quando mi ritrovai a scrivere un testo per un feat, se non sbaglio, o forse proprio per il mixtape, notavo proprio l'influenza, cioè mi uscivano ste rime true, cioè proprio ste cose, cazzo. Nel senso, ok, spacca, non nulla da dire, però secondo me molto forzata la cosa è molto... No, questa scelta mia personale è di non ascoltare granché di pop italiano, perché mi influenzerebbe troppo. D'altro canto, ascolto anche un sacco di artisti che mi mandano i pezzi e dico, cavolo, sto qua spacca, nel senso, è una cosa a sé e quindi la preferisco molto, perché si differenzia in un certo senso dagli altri, perché penso che non abbiamo bisogno di personaggi, perché ci sono già e fanno già loro, quindi ognuno dovrebbe cercare di portare del suo, dei suoi contenuti e del suo altro. Allora, io sono una persona molto particolare, ho un carattere abbastanza strano, nel senso che io penso che noi siamo il frutto delle scelte passate che abbiamo fatto, quindi se uno ha avuto una vita, un passato un po' turbolento, un po' movimentato, nel carattere queste cose si notano. Io ho iniziato a mettere da parte tutta la mia bontà, il mio animo gentile, eccetera, nel senso che se devo dirti una cosa te la dico, non ho peli sulla lingua, non me ne frega niente di far salmare nessuno, nel senso che sempre con educazione si dicono le cose, però comunque se devo dire una cosa la dico, preferisco fare una sana litigata, confrontarmi piuttosto di stare zitta e tenermi tutto dentro e poi scoppiare. Detto questo, ho un carattere molto aperto e solare, parlo con tutti, rido con tutti, perché penso che i nostri problemi dobbiamo tenerceli, tra virgolette, a casa. È brutto da dire, ma mi apro con poche persone, le poche persone che mi circondano, a cui sono veramente legata, e per il resto quando sono in giro, se mi beccate al bar, se mi beccate in discoteca, se mi beccate online, non verrò mai a parlarvi di me e sarò sempre col sorriso in faccia, perché sono dell'idea che uscire costa, quindi se si esce di casa, si esce per divertirsi, se no si sta a casa. Non è sempre facile, però la maggior parte delle volte io la vedo così, di fatto risulta essere sempre la macchietta della situazione, perché per l'appunto, se dovesse entrare in un bar, sedermi e iniziare a riflettere, oddio quello, oddio quell'altro, oddio sta paro, oddio sta paro, ne esco piena di problemi, piena di paranoia e schizzo, quindi è meglio che mi faccia vedere esuberante, felice, contenta, tazzava, la vita è bellissima, ridiamo tutti e stiamo bene tutti, e questo è il mio carattere in poche parole. Penso sia una gran cosa questa, perché comunque innanzitutto sono delle interviste gratuite nelle quali tutti gli artisti possono comunque far conoscere, farsi conoscere, portare un contributo e far conoscere la propria musica per l'appunto gratuitamente, nonostante ai giorni nostri abbiamo diversi strumenti come il social network per pubblicizzare la nostra musica e quello che ci piace fare, ognuno le sue, insomma, perché se ripenso ai tempi passati, e io non li ho vissuti per gli hater, lo dico già, un tempo era veramente difficile riuscire a farsi conoscere, lì cazzo dovevi prenderti, andare a live, consegnare la tua demo, consigliare il disco, dire oh dai, senti, ascoltami, oppure mandare i dischi in giro, insomma, e quindi avevi o live, o facevi live, o c'era MySpace, comunque era già qualcosa, oppure dovevi prenderti appunto e farti chilometri, camminare e farti conoscere per quello, quindi questo è una bellissima iniziativa, insomma, ragazzi, niente, cioè non penso ci sia tanto da aggiungere. E' stato un piacere essere intervistata, e un saluto a Luca, e un bacione a tutti quanti, Bagdial, mixtape, ascoltatelo su YouTube, canale Mistake Bagdial, Facebook Alessandra Tondo Mistake, Instagram Mistake Official, pagina ufficiale Mistake Bagdial. Sous-titrage Société Radio-Canada